Buongiorno a tutti, sono Luca Pedrotti, titolare della Lizzar. Lizzar nasce nel 1992 perché io appassionato di montagna non trovavo calzature fresche, comode e sicure che mi permettessero di camminare sul terreno delle nostre montagne giornalisti. Su questa, inizialmente, mia esigenza abbiamo creato il primo santo sportivo al mondo che avesse una suola in gomma vibra, una zeppa in burioletano sotto il piede anatomico. Queste caratteristiche sono fondamentali, non solo per stare fresche e comodi, ma per poter camminare in estrema sicurezza, perché non basta il grip della suola per camminare, su terreni a oro, ma ci vuole anche un sottopiede e un'atomaia che tengono il piede fermo. Lizzar dal 1992, anno del nostro inizio, progetta, produce sandali ma anche calzature per chi ha a camminare in mezzo alla natura ma anche viaggiare e camminare in città. Di conseguenza la collaborazione con la Feder Trek e la sconservazione della giornata del camminare per noi sono state una cosa naturale, una logica a conseguenza. In quanto abbiamo un sacco di fattori che ci accomunano. Inoltre, il fattore non secondario, tutti i nostri prodotti sono made in it. Quindi collaborare con l'associazione italiana che opera su questo nostro territorio è per noi una priorità.